Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli gnocchi ai 4 formaggi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono gnocchi, panna, gorgonzola, emmental, fontina, caciocavallo, sale, pepe e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il caciocavallo, l'emmental e la fontina. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 6. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il gorgonzola. la panna, il sale, la noce moscata, il pepe. e cuocere per 10 minuti, 80 gradi, velocità 2. Nel frattempo cuocere gli gnocchi. La salsa è pronta. Condire gli gnocchi e servire. Gnocchi e 4 formaggi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.